Buongiorno, benvenuti a questa zuppa del 18 maggio di venerdì, oggi veramente venerdì. Ciao a tutti quanti voi, che cosa succede sui giornali sulla grande telenovela? Governo sì, governo no? Cosa succede? Il premio ancora non si è stabilito. Pare che non sia né Di Maio né Salvini e vabbè, e queste sono una settimana che lo stiamo dicendo. Ma oggi i giornali su che cosa si interrogano? Sul contratto di governo. Il contratto di governo prevede dei costi e oggi i giornali si interrogano su quanto siano questi costi. 65 miliardi per il Corriere della Sera, 100 miliardi secondo Petrini per Repubblica. Tutti parlano di coperture. Mi viene un po' da ridere, non perché il governo che si sta per installare sia stato serio sulle coperture, ma perché le coperture nel passato non venivano così rigorosamente raccontate. E soprattutto nessun governo nel passato metteva tutta la lista delle spese da fare anticipatamente, così prestandosi al gioco di fuoco da parte dei commentatori sempre bravi a commentare e a sparare a bocce incatenate sul governo che sta governando. A meno che non sia fatto da Monti o da un professorone, allora in quel caso va tutto bene. Pensate che io sia diventato un giallo-verde? No. Ma la cosa che mi fa innervosire è come questi facciano i contabili sul contratto di governo e non vadano all'essenza, non vadano a guardare che cosa c'è in questo contratto, se gli piace o non gli piace. Diciamo che un po' il giornale lo fa, quando scrive una lettera a Salvini, dice questo è un contratto più di centrosinistra che di centrodestra, c'è più programma del Movimento 5 Stelle giustizialista che programma della Lega. Poi i conti sono fondamentali, non sono uno di quelli che dice che si possa spostare il deficit come si vuole, ma è il principio, il sapore di questa roba qua, come il sapore del pezzo di Gramellini che considera Totò e Peppino, Di Maio e Salvini che stanno lì, li prendi in giro con quest'area, no? Noi giornalisti chic consideriamo voi due poveri cretini, ecco più senti e leggi i pezzi di Gramellini contro Di Maio e contro Salvini e più ti viene voglia di stare con Di Maio e Salvini e contro questa specie di establishment, i Serra, i giornalisti, i grandi giornali che sanno sempre qual è la cosa giusta, sanno sempre scrivere il pezzo giusto mentre gli altri sono tutti dei coglioni, dei cornuti, invece secondo me non sono dei cretini saranno impreparati, saranno inadeguati, dicono un sacco di balle e soprattutto sono di sinistra sono esattamente quello che è Gramellini, sono esattamente quelli che erano contro la Notav ma se erano di sinistra andavano bene, erano contro i centri sociali andavano bene e poi se è la Castelli che a me mi fa orrore, così come i Notav, beh insomma lei non va bene questa è la cosa che mi fa venire il sangue al cervello e cioè che questi criticano per cose che loro hanno sempre pensato essere giuste solo perché le fanno la Lega e il Movimento 5 Stelle, sto parlando delle infrastrutture il prezzo che la Lega e il Nord pagano alle grandi opere, tra cui la Torino, Lione e il terzo valico di Genova e Milano è l'idea del sole 24 ore, anche se non tutti sono sicuri al 100% che questa cosa sia veramente tramontata, ma quando nel programma di governo si dice che si deve ridiscutere insomma non va tanto bene, là non si dovrebbe ridiscutere, là ci vorrebbe come direbbe Salvini una ruspa per farla immediatamente il terzo valico, per fare immediatamente la Torino di Ore ma se c'è come ministro probabilmente quella con il fazzoletto al collo Notav forse, forse non la faranno così velocemente, tanto pagheranno i nostri figli chi se ne frega, non la paghiamo certo noi, noi ancora ci possiamo mangiare il loro futuro questa è la cosa micidiale e che a mangiare il futuro dei nostri figli siano dei trentenni oggi arrivati in Parlamento dicendo che lo aprono come una scatoletta figli dei generi di quel cretino, cretino totale, che è Beppe Grillo, arrogante non ve lo ricordate, io non perderò mai la voglia di distinguere Grillo dai suoi figli politici perché Grillo è un delinquente, non delinquente come si dicono Sallusti e come si chiama l'altro travaglio Monte dei Paschi di Siena si critica tanto delle dichiarazioni fatte da Borghi per cui il titolo ha perso l'8% mi sembra che oggi ne parli Luca Telese ma non solo lui su tutti quanti i giornali cari amici miei, il problema è che Borghi dica che vuole fare una cosa nel futuro del Monte dei Paschi di Siena nel suo progetto di governo o il problema è come è stata gestita negli ultimi 40 anni il Monte dei Paschi di Siena che ha bruciato miliardi di euro, una banca che ha comprato l'Anton Veneta a 9 miliardi di euro 9 miliardi di euro senza due diligence da una banca spagnola, l'ha comprata per 9 miliardi di euro e ancora li paghiamo ed è fallita la più vecchia banca italiana gestita dai comunisti in cui Mussari diventò presidente dell'ABI allora il problema è Borghi, adesso il problema è Borghi non quello che hanno fatto di quella banca per 40 anni certo, Borghi può anche fare cazzate oggi, può dire stupidaggini oggi ma insomma un pochino no? tutti i giornali quando arrivava Mussari si scappellavano presidente dell'ABI, eccomi qua, come va, come non va la grande operazione Anton Veneta, tutti zitti e pippa adesso cosa fanno? Rompono le balle a Borghi, la trovo stupenda sondaggio dicono che il Carroccio arriva al 25% mentre la Lega, il Carroccio cioè la Lega arriva al 25% un punto in meno prende invece il Movimento 5 Stelle crolla dicono al 12-11% Forza Italia la cosa più bella di oggi, ne parlerò poi sul mio sito è che gli animalisti sono contro la raggi per la questione delle pecore perché dicono vengono sfruttate e la brambilla che è a destra, la mamma è di destra è votata con i vostri voti di destra sapete di che cosa si preoccupa? che le pecorine poverine messe qui per pascolare per aiutare i prati di Roma per tagliarli bene bene le pecorine sarebbero preoccupate dal traffico di destra, di destra, di destra votata con i vostri voti di destra cioè quelli che vogliono la TAV, il futuro, la flat tax questo dicono, questo è il principio, va bene? questo è il panorama ne parlerò più tardi perché su questo io voglio fare un video e ve lo darò più tardi sul sito nicolaporro.it due, invece le questioni, le grandi battaglie di oggi una straordinaria di Sgarbi sul giornale contro Scanzi che dirà non riuscirai mai a fare un millesimo di quello che ho fatto io e lo prende in giro per i suoi ascolti, per la sua televisione per i suoi libri e per i suoi spettacoli che dice Sgarbi essere deserti a differenza dei suoi e poi l'altra cosa su cui si litiga è Travaglio che risponde a Sallustidi quando Sallustidi dice che è un delinquente e Travaglio non fa che confermare di essere stato condannato per diffamazione ma il vero motivo dice che sono stato condannato per diffamazione a Previti quindi siccome Previti è un delinquente io non sono un delinquente perché sono stato condannato in virtù di un delinquente è una cosa veramente un po' patetica stupendo l'idea del Corriere della Sera di mettere in prima pagina il disastro del Venezuela il reportage di una paginetta è una di quei casi che magari ne avremmo lette anche due di paginette di Rocco Cotroneo che mi sembra che viva in Brasile ci racconta la gente che emigra in Colombia i milioni di venezuelani che sono andati via da quello che era uno dei paesi più ricchi del Sud America peccato che manchi una cosa cioè un piccolo reportage un reportage dal Venezuela dalla situazione drammatica in cui si trovano manca una cosa e cioè tutti gli italiani che erano pazzi di Chavez tutti gli italiani del Movimento 5 Stelle nella sinistra, nei giornali che erano pazzi di Chavez chiaro? contro l'imperialismo americano ce li siamo tutti quanti dimenticati ma il Venezuela ha morto purtroppo per i venezuelani nessuno se lo sta ricordando condividete questa zuppa se vi piace vi ricordo che sul sito nicolaporro.it tra poco metterò un video su questa storia incredibile delle pecole di Roma ciao ciao